Lei forse sarà la prima che io non potrò dimenticare la mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui che ha già cantato chissà chi l'aria d'estate che ora c'è nel primo ottunno su di me. Lei è la schiavitura, libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee il fine ultimo che avrò da ora in poi. Lei, così importante e così unica, dopo la lunga solitudine intransicente e imprevedibile. Lei, forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei ad andi, combattuti e avversità. Lei sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei ovunque vada rinunirei, a Pasqua, a Pasqua canto a lei. Lei... 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 che dominate alla vostra bambina per gianna che cosa chiede alla chiesa di Dio, cari genitori, chiedendo il battesso per i vostri bambini, voi impegnate ad educarli per la vita, perché nell'osservanza dei condimenti imparano l'amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato, siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, a lì e a parli, siete disposti a legare il genitorio in questo compito così importante? Sì. Anche a me, con grande gioia e la loro propietà, in solone io mi sento con il sedio della croce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rissevete la luce di Cristo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.